Ex-naufraga dell'Isola dei Famosi fa un annuncio pazzesco su Matteo Diamante e Odd, di chi si tratta e cosa ha detto sui due naufraghi. Alcune rivelazioni su Odd e Matteo Diamante hanno spiazzato tutti. A lasciarsele sfuggire è stata un ex-naufraga dell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi. Stando alle sue parole l'affascinante ex-pupo le avrebbe rivolto delle avance durante la quarantena, prima della loro partecipazione al reality condotto da Ilari Blasi su Canale 5. Lei però non ha ceduto al suo corteggiamento e pensa che probabilmente sull'isola il naufrago abbia voluto fargliela pagare. Le confessioni non sono però finite. L'ex-naufraga ha infatti rivelato che a Matteo Diamante preferiva Odd. Ha detta sua ama i nerd ed è per questo che all'inizio era predisposta ad avvicinarsi allo youtuber. Ha poi continuato dicendo di aver lasciato perdere quando lo ha visto ridotto pelle e ossa zulle isola. A parlare di Matteo Diamante e Odd è stata Manuela Ferrara ospite ieri a casa Chi? Durante la diretta sul profilo Instagram ufficiale del settimanale Chi? L'ex-naufraga ha rivelato un altro curioso retroscena che riguarda lei e Odd. Ha infatti fatto sapere che i due prima dell'isola avevano iniziato a frequentarsi. Si sentivano in chat. Ci ha tenuto però a precisare che non si è mai concretizzata la loro frequentazione online. Manuela Ferrara ha fatto sapere che ai tempi della sua frequentazione online, con lo youtuber lei era fidanzata. Con chi? Con l'ex di Aida Iespica, Enrico Romeo, ha poi confessato che tra loro c'è ancora qualcosa. L'ex-naufraga ha rivelato che i suoi corteggiatori sono aumentati dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, tra questi ci sono anche molti calciatori che sono ex di donne famose. Grazie a tutti.